con questo tutorial vediamo come aggiungere una preferenza in testa in coda o con una posizione di ordine personalizzata facendo aggiungi preferenze facciamo aggiungi preferenze poi ci scegliamo l'insegnamento per esempio tecnologia nella scuola secondaria di primo grado scegliamo per esempio un distretto indichiamo questo distretto che poi andremo a selezionare in che posizionamento lo vogliamo inserire in coda e se lasciamo in coda finirà sotto come ultima delle preferenze in testa e allora finirà selezionata andrà ad aggiungersi in testa la tabella già presente nelle preferenze dunque sarà il primo oppure personalizzato e alla personalizzato per esempio potrebbe entrare alla terza posizione 1 2 e 3 dunque tenete conto che il distretto che adesso andrò a scegliere sarà in posizione 3 perché ho fatto una scelta personalizzata andiamo a sceglierci il distretto e scegliamo il distretto 30 scegliendo il distretto 30 e scendendo in basso facendo avanti andremo a vedere che intanto che tipo di contratti voglio su questo tipo di distretto annuale va bene il concatto di orario diciamo dello stesso comune e poi metto che il tipo di scuola può essere sia ospedaliera sia carceraria sia serale sia degli adulti cioè metto tutte le tipologie di scuola faccio salva e allora nella posizione numero 3 andiamo a verificare nella posizione 3 ecco che compare 0 60 distretto 30 ecco questa è una modalità per inserire diciamo una preferenza in una data posizione in un dato ordine personalizzato speriamo che il tutorial sia di gradimento e soprattutto sia utile ai nostri telespettatori continueremo a informarvi su questa importantissima tematica arrivederci